È stata inaugurata ieri, sarà visitabile fino al 26 ottobre una mostra fotografica della Resistenza Teramana presso l'aetrio interno della Biblioteca Delfico. Che materiali sono esposti? Sono esposti tutti i documenti disponibili, fotografici, perché questa è una mostra fotografica sulla Resistenza Teramana, disponibili che sono stati riperiti tramite libri pubblicati dagli anni 70 ad oggi, in particolare il libro pubblicato da Pasquale Limoncelli e da Sandro Melarangeli nel 2013. Partendo dal primo giorno di Resistenza a livello nazionale, fra l'altro come scontro in gamba aperta tra forze tedesche e partigiane, su Bosco Martese con l'ecidio del mulino di Jacobis e poi a seguire tutti i fatti, purtroppo quasi tutti tristi, fino al giorno della liberazione avvenuta il 14 giugno del 1944. Una storia fatta di personaggi, di episodi, tutti circostanziati e documentati. Insomma, la Teramo ha avuto un ruolo importante nella Resistenza. Sì, la Resistenza a Teramo è iniziata con l'ecidio del mulino di Jacobis, dei cinque partigiani del mulino di Jacobis, primi partigiani, prime vittime della Resistenza nazionale, e si è conclusa a Teramo il 13 giugno 1944 con un ennesimo ecidio. La fucilazione di otto persone, di cui due padri di famiglia e sei ragazzi, alcuni giovanissimi e minorenni, basti ricordare il nome di Cipro, 15 anni, il giorno prima che i partigiani andrassero a Teramo alla data del 15 giugno con la formazione Rodomonti.